Il Tour de Force Biancazzurra prosegue con la Coppa Italia. Esordio all'Adriatico Giovanni Cornacchia di fronte la Fermana. Per Zeeman l'occasione di testare chi ha giocato meno o per niente. In assoluto sarà la prima volta per Ciocci, Staver e Di Pasquale. Esordio stagionale invece per Mora e Vergani. Il probabile 11, Ciocci, Trepali, difesa Floriani, Staver, Di Pasquale e Milani. A centrocampo Dagasso Play, interni Manu e Mora, davanti il tridente Masala-Vergani-Cangiano. L'avvio di stagione non facile per la Fermana che ha conquistato 5 punti in 6 gare. Un solo gol all'attivo, ben 8 incassati nelle prime 5 giornate. Quindi il passaggio dal 3-5-2 al 4-3-3 che ha fruttato il pari 2-2 nel derby di Pesaro di lunedì scorso. Il tecnico è Andrea Bruniera, 59 anni, ex difensore centrale dai piedi molto educati. In A ha giocato con Udinese e Ancona, club col quale ha centrato la promozione nella massima serie allenatore Vincenzo Guerini nella stagione 91-92. Ai tempi compagno di squadra del pescarese Fabio Lupo e dell'ex attaccante Biancazzurro Sandro Tovalieri. Bruniera è stato collaboratore tecnico di Marco Baroni nel Pescara, 2014-15 in serie B. Era il match analyst. Carriera da vice, lo scorso anno secondo di Venturato alla SPAL in serie B. Tanti i cambi previsti, molti giovani. Out l'esperto Padella, non convocati, l'abruzzese Giandonato, ex giovanili Delfino, Laverone e Semprini. Tornano a disposizione De Pascalis e Diuane. Il probabile 11, 4-3-3, Furlanetto, Trepali, Biral, Fort, Santi e Eleuteri in difesa. A centrocampo Fontana, Scorza e Vessella. In attacco Grassi, Montini e Tilli. In caso di parità al novantesimo, tempi supplementari ed eventuali calci di rigore. La gara sarà diretta da Claudio Giuseppe Allegretta della sezione di Molfetta. Grazie.